Ancora oggi ci troviamo dinanzi a colonizzazioni ideologiche che tolgono la libertà, cercano di cancellare la storia e impongono un sistema educativo ai giovani. Lo ha sottolineato Papa Francesco durante la messa celebrata a Santa Marta. Riferendosi anche alle letture dei giorni scorsi, il Pontefice ha chiarito che ieri come oggi l'imposizione di un pensiero unico porta inevitabilmente alla persecuzione, magari fatta anche con i guanti bianchi, fino alla tortura. Dinanzi a vecchie e nuove dittature culturali o ideologiche si può opporre resistenza con il dialetto, con la storia di un popolo e con la forza che da sempre caratterizza le donne. Il popolo di Dio è andato avanti per la forza di tante donne brave che hanno saputo dare ai figli la fede e solo loro, le mamme, sanno trasmettere la fede in dialetto. che il Signore ci dia sempre la grazia nella Chiesa di avere memoria, di non dimenticare il dialetto dei padri e di avere donne coraggiosse. Grazie. 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 Grazie.